Benvenuti amici, io sono Sapin, posto oggi siamo su DOP4 Gioco in cui dobbiamo capire cosa c'è da fare e disegnare eventuali parti mancanti agli oggetti Quindi iniziamo spediti con il livello 1, non so quanti livelli ci siano come al solito Però voi supportate sempre se il canale lasciando mi piace ragazzi, mi raccomando Qui ci manca un piede da segno, no, ce l'ho disegnato Così, proprio, era fantastico, l'ho disegnato proprio precisissimo Allora, qua ovviamente siamo al tutorial Per questo ci viene indicato cosa fare, quindi per adesso ci manca il buco Facciamolo, preciso proprio come giotto l'ho fatto col cerchio lì Ok, andiamo al prossimo, oh, e qui ci manca ovviamente l'altra ciliegia Dico, precisione assoluta dei miei disegni, grandisti Ti stai divertendo? Sì, sì, però dopo, dopo, fammi disegnare Livello 4, qui ovviamente ci mancano le setole Fatto, ok, qua ti manca proprio il dentista Vabbè, li riparo così, come? Scusa Ho parecchio, ottimo così, ottimo così Qua ci manca un fiorellino, glielo faccio io, tranquillo, no? E niente allora, gli manca il vaso, gli faccio il vaso, no? Qualche fiorellino glielo facciamo, no? Qua, gli faccio qualcosa qua? Gli faccio una pina? Gli faccio qualcosa? Qualcosa farò primo Il vaso, eh, so tre ore che cerco di farlo Voglio farlo un po' più basso, devo farlo più alto, giustamente Allora, livello 7, ti guardi allo specchio, guarda quanto sei bella No, vabbè Livello 8, ti manca un corno, te lo faccio Tranquilla, tranquilla, Renna, ci penso io Pala canestro, ci manca ovviamente il canestro Fatto Guarda lì come sono Una zampa, te la faccio io Guarda lì come sono brava a disegnare Glielo 11, che gli manca qui? Una piattaforma, te la faccio io, tranquilla No? Ah, perché sai saltare tu E allora, salta Ecco, semplicemente, dai, su Allora, cookie, glielo faccio io, tranquillo, no problem Livello 13 Che non ti funziona? Cioè, sei staccata la corrente Controlla le cose prima di arrabbiarti Livello 14, la fiamma Come pensi di partire senza fiamma? Livello 15 Che ci manca qua? Un po' di salsina Gliela faccio io Vabbè, no sense, questo è no sense Cervello Allo zombie Gli ho fatto Proprio in tutti i sensi cervello Eh, lì 117 Qua che manca? Eh, una X Una X No No, niente Semplicemente ha fatto il tris A posto Lì 118 Che ci manca? La pizza Gli faccio la pizza No? Gli manca Non lo so, che gli manca Ah, perché è triangolare, giustamente La pizza triangolare Fatto, fatto Io volevo farlo in terra la pizza Qua ci manca la cordicella A posto 20 Che ti manca il peso Te lo faccio grosso Ecco, che tu sei abbastanza grosso Livello 21 Porta il cagnolino all'osso Ci penso io Ecco, fatto Tiè, cagnolino Vai a mangiare Livello 22 Ruota Semplice Livelli spediti Livello 23 Altro palloncino E svolazza L'elefante Che bello Poi il tubo Fatto Livelli proprio sparati 25 Non mi alzare il dito Sai, non mi accusare Che è la palla La palla Livello 5 Ok 26 La tour Eiffel E facciamogliela Va 26 27 L'avocado Gli manca il nocciolo E facciamoglielo Livello 28 Le eliche Fatto 29 29 Spediti 20 Coffee Che gli manca qua Ah, il manico Il manico ha la tazza No, il manico Gli manca Quindi non rompere Infatti Quindi non so dove Ma c'era il manico Con il pandizzenza Che fa il bagno 30 Che ti manca? Eh Metti la mano qua No No Eh, allora che ti manca? La cintura Mettiamogli la cintura No Ma scusa E' senza cintura E' impossibile Che Dove le attacco Ste cinture? Ah Perché è quella Quella unica Io volevo mettergli Tipo quella della macchina 31 Eh Pungi va Zanzara malefica Prossimo 32 Eh Che manca qui? E manca il comignolo Manca l'altro alberello No Che cosa dovrebbe mancare? Una casetta sul piedi Ah Una palla di neve Eh No Vabbè La palla con dentro la leve Ok 33 Che ti manca a te? Vuoi farti la nuova acconciatura? Fatti la nuova acconciatura E non rompere le scatole Ti sciolgo i bigodini Ti sciolgo i bigodini No Taglia Stai faccio io Tranquillo Io sono un parrucchiere Lì ho 34 Ti sei tagliato Te lo riparo Ti metto lo scotch Vai Buca Gli manca la buca Giustamente 35 36 Gancio Gli manca il gancio Ah Aspetta che qua C'è un sistema di carrucole pure Fatto Fatto Ok Livello 37 Che ti manca? Ah perché comunque sembra il pianistallo di un mappamondo Quindi gli faccio tutto il mappamondo Fatto Fatto 37 38 Allora Cupido Che ti è successo? Ti manca il filo dell'arco giustamente Te lo faccio io Ma non è vero C'è C'è Infatti C'è Se non lo disegnate perfettamente non lo prende 39 Tavola da surf Fatto 40 Allora Pan di zenzero Che manca? Sto pan di zenzero L'altro comino Cosa tonda? No Eeeh Un piatto Manca il piatto Gli lo faccio sotto Gli lo faccio rotondo No Gli lo faccio triangolare No Gli manca qualcosa qui Manca qualcosa al disegno Possibile Eh Mi fa la porta Ma guardate Tra l'altro gli ho fatta rotonda Dettagli Livello 41 Ma anche il fuoco Che fa il fuoco? Non te l'accendi Babbo Natale L'abbiamo rostito 42 Mancano le altre pale Ok 43 Andiamo a parcheggiare Dove? In che senso? Questa qui Può parcheggiare Qua no Può parcheggiare qua No E gli altri sono tutti occupati Questa qui Può parcheggiare qua No Eh La nemmeno perché c'è l'altra macchina Questa qua Nemmeno Questa qua così Sì Vabbè A tentativi praticamente Fino a quando indovinate 44 Eh Nascondi qualcuno Nell'armadio Chi è? C'hai l'amante Brutto Apri l'armadio Apri l'armadio Eh Oppure gli disegno proprio l'amante E la chiudo dentro La chiudo dentro Oh Così La nascondiamo Liero 45 2 1 Eh 3 Vabbè Meglio così Liero 46 La perla Manca la perla Manca la lingua La perla La mega perla 47 E manca l'entrata Per l'uccelletto Eh L'uccellone Devo dire 48 Che ti manca la fune Vai calati Ah no Il palo del pompiere 49 Manca lo schermo Facci lo schermo 50 Eh Che ti manca a te Che Ti manca Non lo so Qualcosa ti mancherà Ti manca Ah ok La Cosa la fune No Sì Il lazzo della fune Vabbè 51 La zampetta Zampetta 52 La palla La palla ovviamente Palla di vetro 53 Il quadrifoglio Ovviamente 54 La fiamma Che facili Cosa che ci perdete 10 minuti Per capire cose facilissime Qua che manca La linea centrale Ovviamente Che manca Qua il 56 Il tap Dentifricio Dentifricio No Chiudiamo il dentifricio Che si spreca No Spremi Spremi sto dentifricio Metti Mettilo Eh Devo metterlo direttamente Sullo spazzolino 57 Che è caduto qua Ha caduto Qualcosì Ah Il dong Il dong Quello grosso Sì Gong Prossimo 58 Che ti è successo Metti il paletto qua Sei arrivato Sei arrivato a destinazione No Non sei arrivato Cioè è un cartello Quei cartelli Io sono stato qui Quindi Per forza È più grande Allora È più grande No È tanto grande No Allora è piccolo Ah è una bandiera Dovevo fare la bandiera Ma dai 59 Sherlock Holmes Ti manca la lente L'osso in bocca La ti faccio No No Niente L'osso in bocca Niente Sotto non c'è niente Prenditi l'osso Ma vuoi l'osso Se non ti prendi Niente Non riesco a disegnare niente Niente Bocca La bocca Gli dovevo mettere l'osso Di semplicemente Cioè facendo il pallino In bocca Ma fammi disegnare l'osso 61 Come si è arrobbiato A te ti manca l'anello Torello malefico 62 Cos'è? No vabbè La piccozza di Minecraft Ok 63 Che manca qui? Apriamolo blu Apriamolo Il gattino Riberate il gattino 64 Cos'è? Ci vado sempre a disegnare cose Cose stupide Prima o po' Prima o po' lo beccherò È giustamente la carta di credito firmata Allora Livello 65 Che stai facendo sulla neve? Ti ho disegno pure Tranquillo E che fai? Il birbantello Arcade Si è rotto Allora questo con questo E questo con questo Si sono rotto Vabbè li colleghiamo Così? Così? Semplicemente no? Sì, sì Pacman 67 Che c'è? Ti manca il sacco Eh ti manca quello grosso Eh eh Arena quella te 68 Che c'è? Che hai visto? Un topolino Una volta comunque Apriamo Apri la maniglia no? Facciamo il buco Così passi Sì, sì Preciso Preciso Questo è un incrocio Tra volpe e cagnolino 69 Lufo E prendiamoci la mucca Eh eh 70 Che è successo a sto violino? Si è rotto Si è rotto l'arche E l'archetto funziona Quindi cos'è che si è rotto? Qualcosa si è rotto qua L'accordiamo Ah ecco Manca l'altro Così L'altra decorazione 71 Manca tutta la scarpa Fatto 72 Fermiamoci a 75 Perché altrimenti Completo il gioco Va 72 73 E orologio Le lancette mancano Mancano le lancette Come le disegno le lancette? Manca il numero 2 3 Il 3 Vabbè Non senza 74 Che manca Un altro palazzo al centro No? Niente Il comignolo Il tetto Qualcosa qui Ma se c'è un palazzo a sinistra E un palazzo a destra Deve esserci qualche palazzo Anche al centro No? E' più alto E' tanto più alto Meno che devo essere preciso Come non so che Per farlo No ma non è così Sì invece è così Dovete essere precisi Come non so che L'ultimo Facciamo l'ultimo Il livello 75 Manca una striscia La vedo Manca una striscia E infatti Fatto ragazzi Il prossimo video Il livello 76 Non so quanti livelli ci siano Non c'è dato saperlo Ma in questi giochi I livelli sono tanti Quindi siamo al 76 Con Batman Che guarda Ovviamente mancherà il pipistrello Manca il pipistrello Disegnato Non so che Non so come Fatto Saremo al 77 Quindi raccomando Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Se siete iscritti Attivate la campanella E per oggi è tutto A prossimo video La notte Grazie a tutti A presto Grazie a tutti Grazie.